Eccoci qua, l'estate sta per arrivare, la scuola sta finendo, piovono da ogni dove consigli, cose belle da leggere sotto l'ombrellone, anche io ho preparato le mie. Ah beh certo, ci mancherebbe. Noi con Andrea, che grazie a Dio è ancora con noi negli studi di più bredio a parlare di fumetti, ci dedichiamo invece ai fumetti da portarci sotto l'ombrellone. Allora è ovviamente, il mercato è enorme ed è ovvio che siano delle scelte molto arbitrarie diciamo così, però come sempre noi vi diamo degli stimoli, le nostre considerazioni. Io per esempio quando scelgo le cose da portare sotto l'ombrellone faccio una valutazione anche sul peso e la dimensione, perché c'è cosa mi porto nello zaino, un albo grande così. Però è anche vero che, e questo l'editoria lo dimostra, spesso durante l'estate vengono privilegiate letture lunghe. Questo è vero, questo è vero, però magari senza la copertina cartonata, insomma qualcosa di più maneggevole. Tu come li hai scelti questi? Allora io li ho scelti soprattutto per, come dire, per la leggerezza della narrazione, più che della leggerezza. Ci vuole la leggerezza d'estate col caldo. Beh dai, col caldo e poi insomma siamo in vacanze, ci sono un po' per mettere gli andati e noi saremo lì a miniera, però non importa. Vabbè perché tu fai questo lavoro difficilissimo che è complicato, ne abbiamo già parlato e ne parleremo ancora. Allora ho scelto, siccome prima stavamo discutendo sul fatto se 5 o 3 sia il numero perfetto, io siccome c'è un fumetto famoso che si intitola 5, e ne ho scelti 5. Vai con i 5. Allora, prima cosa, è già un albo diciamo così, però era troppo giusto per una cosa del genere, è un'estate fa di Zidrou e Giordi Lefebvre. Di Giordi Lefebvre abbiamo già ovviamente parlato. Meraviglioso. Meraviglioso. Ed è una, tra l'altro è una serie, quindi questo è il primo di una serie di albi, perché in Francia c'è questa abitudine che se un albo va bene poi si continua e se ne fanno degli altri. In questo caso Giordi Lefebvre non è da solo come nelle altre cose che ha fatto, è con Zidrou, che è un grande sceneggiattore francese. La storia è carina perché è la storia di una famiglia belga che va in vacanza dove il papà è un fumettista. Ok, quindi questo è anche ambientato durante i vacanze. L'ho scelto proprio per questo. Tra l'altro, tu lo sai, Giordi Lefebvre, secondo me è di una bravura. Eh sì, è un gigante. È un gigante, un autore spagnolo, ricordiamo. Come è riuscito a rendere l'estate in quest'albo è qualcosa di spettacolare, soprattutto proprio per la cura del colore delle luci e delle ombre. Va bene, allora ce lo andiamo a cercare. Editore Baopublishing. Baopublishing ha fatto un bellissimo lavoro e da questo punto di vista loro sull'editing sono molto bravi, bisogna riconoscerglielo e quindi è molto, molto, ci si può riconoscere molto. Ok. Secondo albo che abbiamo scelto, questo l'abbiamo scelto perché è un fumetto assolutamente imprescindibile, ma non ne abbiamo mai parlato e non so perché, non è mai capitato. Ma anche a me sai capita di cose imprescindibili su cui non ho mai scritto. Ma come è possibile? Eh, non è capita. Perché non hai talmente per scontarlo. Esatto, oggi rimedia. Dai, rimedia. Calvin e Hobbes. Calvin e Hobbes. Di Bill Watterson. Allora, un capolavoro assoluto. Allora, di Calvin e Hobbes è bello tutto. Non c'è una striscia che non sia, cioè è una meraviglia assoluta. È vero. Ricordiamo la storia di questo bambino con una fervidissima fantasia. Il suo amico di Peluche. Il suo amico Peluche che è una tigre, che è un peluche ma che lui vive come se fosse un personaggio reale. Pensa che il primo libro di Calvin e Hobbes me lo regalarono i bambini a cui facevo da babysitter tantissimi anni fa ed era la vendetta del babysitterato. Era il babysitterato, fantastico, meraviglioso, ricordiamo così, per dirvi quanto è sottile, no? Che Calvin si chiama così perché nel suo approccio alla vita è calvinista e Hobbes si chiama così perché nell'approccio alla vita, anche se è un peluche, è hobbesiano. È vero. Quindi è proprio una roba di fino che di più non si può. Tra i tanti albi bellissimo che ha pubblicato la Franco Cosimo Panini, io ho un amore particolare e per contrapasso con l'estate che è calda vi consiglio, l'attacco dei mostri di neve mutanti. Che è ambientato in un gelido inverno. Perfetto, così ci rinfreschiamo. Così ci si rinfresca della storia di Calvin che fa dei pupazzi di neve da vita come se fossero Frankenstein e i pupazzi di neve cominciano a riprodursi tra di loro. Magnifico. È fenomenale, proprio il massimo, l'apoteosi. Andiamo avanti sempre sul tono della leggerezza e veniamo in Italia perché insomma non sono autori stranieri. Il mio consiglio è Venerdì 12 di Leo Ortolani che è l'autore di Ratman, uno dei più grandi autori italiani. Qui lo trovate sia con l'edizione di Baopladbici sia con le edizioni precedenti che era con un altro editore. Venerdì 12, tutti conoscono Ratman, pochi conoscono Venerdì 12. Secondo me Venerdì 12 è più bello. No, è più Leo Ortolani, è più lui, ecco. E la storia di un povero disgraziato che prende in un negozio... Ah che bella copertina. Prende in un negozio un carillon per farne un regalo senza curarsi del fatto che su questo carillon, anche se viene avvertito, c'è una maledizione. Questa maledizione si scatena su di lui, diventa un uomo orribile tipo quello di Venerdì 12. C'è un mostro con questa maschera comunque da hockey. Ma lui rimane innamorato e si rifugia nella soffitta del condominio dove vive assieme a un servitore che si chiama Giuda. Che vi do l'idea di quanto sia un fedele servitore. Sono uno che si chiama Giuda. Allora, Venerdì 12 è veramente uno spasso. Tra l'altro è uscito l'Omnibus, quindi potete leggervelo tutto. Ah. Con tutte le puntate. E da lì in poi voi vi innamorerete anche voi, per modo di dire, di questa sua fiamma che si chiama Bedelia, che è la donna più orribile, più cattiva, più crudele. Sì, assolutamente ironico. Assolutamente ironico. C'è proprio tutta la cifra di Le Ortolani, che è un autore comico come pochi altri. Venerdì 12 è fantastico. Ovviamente è una paradiglia di Venerdì 13 la serie dei film. Certo. Siccome abbiamo messo dentro un po' di tutto. Sì, con cosa proseguiamo? Con un po' di supereroi. Eh, beh, vogliamo non avere il supereroe. Ma sì, cioè, insomma. Dai, supereroriamoci. Supereroriamoci, però facciamolo con stile e con contenuto. Quindi assolutamente Daredevil. Daredevil. Io personalmente amo tantissimo, tra l'altro se mi cercate in giro ho dedicato proprio un lungo pezzo sugli essentials di Daredevil. Lo mettiamo nei commenti. Nei commenti. Sono uscite parecchie raccolte, una in particolare, secondo me, straordinaria, e mette d'accordo tutti, anche quelli che non sono appassionati per loro stessi dei supereroi, che è una saga che si chiama Born Again, tradotto in Rinascita, di Frank Miller e David Mazzucchelli. Frank Miller è l'autore di Sin City, di tante cose, del ritorno del Cavaliere Oscuro di Batman, ma c'è un autore veramente gigantesco della scena americana, David Mazzucchelli altrettanto, ed è la storia bellissima in cui il personaggio, questo lo dico perché è proprio l'incipit, quindi non è un grosso spoiler, perde la sua identità segreta. Ah, nel senso che viene scoperto? Sì, viene scoperto, no, è ancora peggio. La sua ragazza, che è diventata una tossica, vende l'informazione dell'identità segreta al peggiore dei nemici di Daredevil, e questo scatena una cosa terrificante. L'albo, cioè è una raccolta, in America è uscita in tanti albi, ma è autoconclusiva ed è fenomenale. Chi l'ha pubblicata? Beh, l'ho trovata per Marvel Italia, che adesso ha fatto la raccolta di tutto quanto. Last but not least. Last but not least, ma questo è un evento di cui bisognava parlare, su Tex torna Mephisto. Mephisto è uno dei personaggi più amati di Tex, mancava dalle pagine di Tex da vent'anni, pensateci, vent'anni che non... È giusto quest'estate? È giusto quest'estate? Per i vostri ombrelloni? Per i vostri ombrelloni, dal numero 738 di Tex, che è uscito ad aprile, ma che potete tranquillamente recuperare, per sette numeri, quindi andiamo a finire... Lunghi, fino a settembre. ...tutto l'estate, praticamente fino a settembre, ci sarà la possibilità finalmente di conoscere la vera storia di Mephisto, che è un personaggio che è... Quindi dentro il fumetto di Tex. Esatto, è una... Ok. ...come dire, una sorta di miniserie nella serie. Quindi possiamo comprare Tex per l'estate e trovare Mephisto. E trovare tutta la storia e scoprire soprattutto le origini di Mephisto, che non sono mai state raccontate. Tenete conto che Mephisto è veramente uno dei personaggi più amati della saga bonelliana del... ...di Tex. ...a oggi personaggio più venduto del fumetto italiano, senza il minimo dubbio. Davvero ancora? Assolutamente, dà una pista a tutti, ma tipo... Davvero ancora Tex Willer? Non l'avrei mai detto. Tex Willer è un gigante e lo è stato, ma che fosse ancora il primo, non l'avrei detto. Ah, è una cosa... Cioè, tutti i mesi, tutti i mesi, Tex vende cinque volte quello che vende un albo di zero cacare. Però... Tutti i mesi. Giusto per darvi un'idea. Cioè, Tex è qualcosa che... Mostruoso. Sottovalutiamo spesso, ma è mostruoso. Ma forse non è che lo sottovalutiamo, lo diamo un po' per scontato. Perché lui c'è, c'è da sempre, sì. E quindi è che sia così. Invece no, è un personaggio davvero fondamentale e fondante del fumetto italiano. Ok, quindi questi mi pagliano cinque spunti anche interessanti, perché sono di modalità diverse. Assolutamente. Fumetti d'autore, fumetti di personaggi... Di trattenimento, seriali, non seriali. Allora, lì c'è un po' di tutto, insomma. Perfetto. Speriamo che vi piacciono. Ottimo. Fateci sapere. Se li leggete, diteci cosa ne pensate. Siamo qui che aspettiamo. Cosa ne pensate. Buoni fumetti sotto l'ombellone. Buon estate. Ciao.